Il Covid parla inglese a Chieti e Pescara, stupia, la variante è più infettiva del 75%, i contagi non danno tregua, altri 482 casi positivi in Abruzzo e 11 decessi. Ex manicomio Terramano e gestione della pandemia, Sandro Mariani attacca il governatore Marsilio, il consigliere di opposizione presenta un'interrogazione scritta. Un consorzio per rilanciare il mercato ittico, Summit tra comune di Giulianova e Marineria, tavolo tecnico convocato dall'assessore Giorgini sulla compravendita del pesce azzurro. Il pescara Frosinone recupera Galano, domani l'esordio di Grassadonia, diavolo, mister Paci predica calma dopo il K.O. con il Potenza, dice non siamo in crisi. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. Nel primo piano l'emergenza coronavirus con una presenza massiccia della variante inglese sia a Chieti che a Pescara, diciamo nel territorio dell'area metropolitana, una variante più infettiva del 75%, secondo il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti, Sara del Vecchio. Tanti ricoveri da Covid-19 in Abruzzo, 600, e tra i pazienti anche i più giovani, esclusi dalla prima ondata dell'emergenza sanitaria. Predominante nei territori di Chieti e Pescara, la variante inglese, così come spiega ai nostri microfoni Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare Test Covid-19 dell'Università Teatina. L'inglese è presente in maniera massiccia sul nostro territorio, tant'è che la maggior parte dei tamponi positivi sono da variante inglese e non più dal ceppo originale. Ci dobbiamo preoccupare perché è più infettiva, è molto più infettiva, è più infettiva del 75%, quindi ovviamente le possibilità di contrarre l'infezione a parità di condizioni sono molto più alte rispetto al ceppo originale. E perché molti sono i giovani che sono comunque anche ricoverati? Allora, quello bisogna capire se c'è un problema specifico dei giovani o semplicemente è che mentre nella prima ondata l'anno scorso i giovani erano a casa e sono stati a casa fondamentalmente fino a maggio-giugno perché le scuole non sono state mai riaperte, potrebbe anche darsi che adesso invece le scuole sono state riaperte e richiuse, i giovani circolano, i giovani siccome si ammalano di meno, sono più infettanti, cioè vanno in giro asintomatici a infettare altri, quindi infettarsi tra di loro, infettare altri, quindi probabilmente noi stiamo vedendo in realtà il fatto che la popolazione è a rischio è diventata quella dei giovani perché sono loro che girano di più rispetto a quello che succedeva prima. Quindi a questo punto servirebbe il lockdown vero, cioè quello che abbiamo visto a marzo dello scorso anno? Da un punto di vista sanitario sì, io poi mi rendo conto, l'ho già detto, che esistono problematiche economiche, sociali e anche psicologiche, però c'è un ragionamento da fare, questo virus si è espanso, questa nuova forma non in un momento in cui c'è stato un liberi tutti come quest'estate, ma in un momento in cui le misure di contenimento c'erano, quindi effettivamente ha dimostrato di essere molto più infettivo. Se quindi in questo momento non conteniamo l'infezione di quel virus con quelli che sono gli strumenti che utilizziamo adesso, dobbiamo probabilmente ricorrere a strumenti più estremi, per un periodo magari limitato, però un lockdown probabilmente è necessario. Quando si contrae con quel Covid e poi si guarisce, ci possono essere degli strascichi, magari di questo se ne parla poco? Allora, questo lo vedono più i miei colleghi clinici, perché noi facciamo analisi di laboratorio, però sì, sono sicuramente riportati degli strascichi anche a lunga durata da un punto di vista di, per esempio, capacità di concentrazione, la stanchezza, problemi di visione. C'è tanto, questo per confermare che chi sottovaluta questo virus, continuando dopo un anno a definirlo, è solo un'influenza, sta sottovalutando un problema, cioè è un virus in cui tra l'altro gli effetti a lungo termine su quelli che l'hanno contratto non li possiamo ancora sapere, perché ovviamente parliamo di un'emergenza che dura da un anno. Nessuna tregua dunque per quanto riguarda i contagi in Abruzzo, sono 482 nuovi positivi che si riscontrano nelle ultime 24 ore, 11 invece i decessi, resta alta la pressione negli ospedali. In una regione che potrebbe rientrare totalmente in zona rossa dopo la cabina di regia di domani, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 482 e 11 purtroppo i decessi, 4 in provincia di Chieti, 1 in quella dell'Aquila, 4 nel Teramano e 2 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. L'età dei contagiati va da 6 mesi a 94 anni. Secondo quanto riferito dall'Assessorato alla Sanità della Regione, il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi. Boom di contagi tra i giovani. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 103, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 35.803 guariti. Attualmente i contagiati in Abruzzo sono 12.308. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 695.402 tamponi molecolari e 187.309 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test rapidi del giorno, è pari al 4,9%. 552 pazienti, quindi più uno rispetto alla giornata di ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 70 più 7 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 11.686 sono in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, 12.834 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 47 rispetto a ieri, 12.022 in provincia di Chieti, più 192, 12.253 in provincia di Pescara, più 192, 12.021 in quella di Teramo, 411 fuori regione e 169 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Sabato e domenica prossimi 6.000 studenti di Pescara saranno sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda lo screening organizzato per monitorare la variante inglese. Intanto dalle scuole medie arrivano segnali incoraggianti con solo 4 positivi su 850 tamponi che sono stati analizzati. Sergio Cinquino Sarà un controllo a tappeto su tutti i bambini delle scuole elementari di Pescara, sia pubbliche che private, quello allestito, con lo screening del Comune Adriatico per sabato e domenica al Palafiere di Via Tirino con 8 postazioni e 16 operatori. Un modo, con la variante inglese che incombe, fa registrare in città numeri preoccupanti per tenere sotto controllo la situazione contagi tra i più giovani e puntare al rientro a scuola il primo marzo se i risultati saranno buoni. Così come è accaduto per gli ultimi controlli sulle scuole medie pescaresi dove su 850 tamponi lo screening ha fatto registrare solo 4 positivi, due studenti e due docenti delle medie Rossetti, Mazzini e Benedetto Croce messi in isolamento ai primi di febbraio che non avevano partecipato alla campagna di test da poco concluse. Allora, ieri abbiamo completato lo screening alle scuole medie e diciamo che i risultati sono stati discretamente positivi. Su 850 ragazzi e insegnanti a quali è stato sottoposto il tampone soltanto 4 sono risultati positivi, quindi sono in fase di accertamento. Invece la novità interessante è quella che andremo ad affrontare sabato e domenica prossima con tutti i ragazzini della scuola elementare di Pescara, sia le scuole pubbliche che private. Complessivamente saranno 6200 più o meno, quindi io invito le famiglie alla partecipazione a questo screening in modo da poter tornare poi il primo marzo regolarmente a scuola dopo aver controllato tutti i bambini e tutti gli insegnanti. Diciamo che probabilmente la decisione di chiudere è arrivata in tempo perché la variante inglese con i dati che emergevano con i giovanissimi probabilmente era dietro l'angolo e il gombeo. Sicuramente sì, dopo l'attuazione da parte della regione della zona rossa su Chiedi e Pescara, la ASI, i medici della ASI di Pescara hanno ritenuto opportuno darci questo suggerimento di chiudere le scuole fino al 28. Noi non potevamo non accogliere questo invito in modo da tenere e monitorare costantemente la situazione. Nei numeri, quelli dei contagi tra i giovani che sono in continua crescita e preoccupano. Non c'è nulla da fare purtroppo, le scuole sono un veicolo non tanto per le scuole ma per tutto il contorno ci sia. Dentro la scuola uno è sicuro, il problema è arrivarci, è quello che si fa prima e è quello che si fa dopo. Non si può più dire che le scuole sono pericolose, i ristoranti sono pericolosi perché concettualmente nessuno è pericoloso perché tutti adottano le stesse misure. Le faccio un esempio, l'Everest è sicurissimo, ci arriva uno che sta sano e tranquillo però uno ci arriva ma gli ci muoiono prima di arrivarci. Quindi il discorso è molto semplice, non è tanto l'ambiente di quei ristoranti, i bar o le scuole è la massa che crea il movimento e il virus cammina sulle gambe quindi evidentemente noi dobbiamo fermare più gente possibile e non farlo girare. E a proposito di Pescara sono state 71 le persone sanzionate dalla Guardia di Finanza per violazione delle norme anti-Covid negli ultimi dieci giorni quando a fronte dell'impennata epidemiologica che ha portato la regione a dichiarare la zona rossa i controlli hanno assunto carattere più rigoroso. In particolar modo appunto oltre alle 71 persone che sono state sanzionate sanzionate anche due esercenti, tra cui un bar che consentiva il consumo interno al locale. Tra le violazioni riscontrate la creazione di assembramenti e sono state individuate diverse persone che non indossavano la mascherina o la indossavano in maniera non corretta. Dopo l'apertura alla manifestazione di interesse degli over 80 e categorie fragili per quanto riguarda la campagna vaccinale in Abruzzo è stato aperto anche il portale al mondo della scuola che rimarrà usufruibile fino al prossimo primo marzo, salvo ovviamente proroghe. Fino ad oggi le adesioni sono state oltre 16.000. Chiara Bonatti In seguito alla grande partecipazione alla manifestazione di interesse e l'inizio delle vaccinazioni agli over 80 la regione Abruzzo ha provveduto ad aprire qualche giorno fa il portale per il personale scolastico. Dopo qualche polemica per la mancanza di alcune categorie si è ampliata per tutti coloro che frequentano il mondo della scuola la possibilità di iscriversi arrivando così a 18 categorie da poter selezionare sulla piattaforma. Se in un primo momento era possibile l'accesso ai soli residenti in Abruzzo si è deciso ora di estendere il bacino anche ai conterrani residenti in altre regioni attraverso SPID o codice fiscale. Per il resto la procedura è uguale a quella utilizzata anche dagli over 80 che ha raccolto oltre 100.000 adesioni. Il piano vaccinale procede, come definito dall'assessore Veri è un'operazione molto complessa dal punto di vista logistico e organizzativo ma c'è l'impegno da parte di tutta la regione a non lasciare indietro nessuno soprattutto le categorie fragili e disabili. Con le varie indicazioni riguardanti le diverse tipologie di vaccino le riduzioni di altre e l'andamento dei contagi si è dovuto provvedere a una rivisitazione complessiva del calendario vaccinale. Sempre l'assessore alla sanità spiega che non vi siano criticità al momento della somministrazione delle dosi in quanto ne sono state già utilizzate oltre il 78% che è in linea con quello di tutta Italia. Questa mattina il dato complessivo degli iscritti era di 16.429 persone ripartito a livello provinciale in 3.452 all'Aquila, 4.126 a Chieti, 3.862 a Pescara e 3.508 a Teramo. In più bisogna contare i 1.481 dell'università e dei percorsi post-diploma. Una partecipazione che continua ad aumentare e che continuerà anche nei prossimi giorni fino alla chiusura delle adesioni, fissata per il 1 marzo, salvo proroghe. Anche se non c'è ancora una data prestabilita, è possibile che a breve il vaccino verrà somministrato alle categorie scolastiche. Intanto l'assessore fa sapere che a marzo si procederà con i soggetti fragili e disabili, con cui sono in corso interlocuzioni con le associazioni per definire le modalità. Ed è fissato per sabato 20 febbraio l'avvio della campagna di vaccinazione del personale scolastico e universitario abruzzese. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verì, che ha promosso questa prima giornata in collaborazione con il referente regionale per le vaccinazioni Covid, Maurizio Brucchi. Sono circa 1.000 gli ultraottantenni residenti nel comune di Roseto degli Abruzzi che verranno sottoposti la prossima settimana al piano di vaccinazione anti-Covid. Si partirà giovedì 25 per concludere domenica 28. Il comune entro un paio di giorni comunicherà alla ASL la sede idonea per ospitare tali operazioni. Lino nazionale. Sono più di 1.000 gli anziani ultraottantenni residenti nel territorio comunale di Roseto che la prossima settimana verranno sottoposti a vaccinazione, secondo il piano stabilito dalla ASL di Teramo. Si parte giovedì prossimo 25 febbraio e si procederà sino a domenica 28 febbraio. Il sindaco Sabatino di Girolamo, assieme ai suoi collaboratori, entro lunedì prossimo dovrebbe ufficializzare la sede all'interno della quale il personale medico sottoporrà gli anziani over 80 alla somministrazione della dose del vaccino anti-Covid. Al momento si stanno compiendo i sopralluoghi per individuare la sede consono alle prescrizioni della ASL, ha tenuto a precisare il primo cittadino rosetano attraverso il suo profilo Facebook. Le persone interessate saranno contattate in via preventiva dal comune che indicherà con esattezza il luogo, la data e l'orario preciso per ricevere la vaccinazione. Ovviamente chi sarà avvertito telefonicamente dovrà recarsi nell'ora stabilita portando con sé la tessera sanitaria, il documento di riconoscimento, un numero di cellulare obbligatorio e qualora non se ne sia in possesso si potrà indicare un numero di un familiare o di una persona di fiducia e il nome di eventuali farmaci assunti da comunicare durante il check-in. Per quanto riguarda comunque la sede idonea che il comune starebbe cercando si pensa anche alla possibilità di attrezzare un locale di dimensioni contenute esclusa al momento invece l'ipotesi di utilizzare eventualmente una palestra. Intanto Roseto un anno fa, era il 27 febbraio, ebbe il triste primato del primo contagio covid in Abruzzo. Un turista della Brianza con la famiglia decise di lasciare la Lombardia dove il virus stava già facendo le prime vittime. Si trasferì nella casa al mare. Dopo appena due giorni manifestò tutti i sintomi della SARS-CoV-2 costringendo il sindaco di Girolamo e il governo regionale ad organizzare la prima task force. Un'interrogazione scritta sui fondi destinati al restauro dell'ex manicomio di Teramo è stata presentata in regione dal capogruppo di Abruzzo in Comune, ovvero il consigliere Sandro Mariani. La polemica con il presidente Marsilio si basa anche sul doppio ruolo della Lega in regione e al governo nazionale. Sentiamo Giancarlo Falcone. Consigliere, non si capisce molto. Zona rossa, zona arancione, zona gialla. Il presidente governatore Marsilio anticipa le zone e chiede poi la responsabilità al governo. Ormai siamo davanti ad una questione che si protrae ormai da mesi, ovvero un governo regionale che prende delle decisioni spesso sbagliate, purtroppo, e poi me e sistematicamente dà la colpa al governo. Sicuramente non gli permetterò di fare il solito giochino, il solito siparietto. È il momento delle responsabilità. Ho appena depositato una importante risoluzione sulla situazione dell'ex manicomio che mi sembra per noi teramani una di quelle questioni su cui il presidente Marsilio non sta dando risposte. È una questione importante perché quei fondi sono stati utilizzati per l'emergenza Covid. Che fine hanno fatto? In realtà aspetto di vedere e di sentire che cosa verrà risposto alle mie domande, perché ho fatto delle domande molto tecniche e puntuali. Quello che sto vedendo è una forma di paralisi continua di una regione che non sta dando risposte, che non sta crescendo, e che tra l'altro a partire dalla sanità per poi passare per gli altri grandi temi regionali dagli investimenti in un ultimo tema, è una regione tremendamente indietro. Sotto gli occhi di tutti basta parlare con la gente, io dico sempre questo, non è che servono le grandi riflessioni e le grandi menti pensanti. Basta parlare con la gente, con il cittadino medio, vedere che giudizio ha di questo governo regionale. L'Abruzzo rischia da domenica la zona rossa. Il governatore Massiglio se la prenderà anche con la Lega in maggioranza in regione Abruzzo e al governo a Roma? Sì, sicuramente farà sempre questo solito giochino, ma adesso ripeto, continuo a ripetere, che il gioco è finito, perché è il momento delle responsabilità. non può più sottrarsi, naturalmente, a quelle che sono le responsabilità di un presidente di regione. Un presidente, ricordiamo, assente, che è intervenuto raramente in Consiglio regionale, se non per fare comunicazioni o discorsi di poca rilevanza per il nostro Abruzzo. Incontro proficuo ieri sera tra l'assessore al mercato ittico di Giulianova, Paolo Giorgini, dirigenti dell'Enteporto e la marineria pugliese. Infatti il tema del dibattito era il rilancio della struttura mercatale anche attraverso le trattazioni di compravendita del pesce azzurro. Un consorzio di gestione del mercato ittico di Giulianova che veda la diretta partecipazione anche della marineria pugliese, che da sempre opera nel settore della pesca del pesce azzurro, con le lampare o con le volanti. L'assessore Paolo Giorgini, grazie anche alla collaborazione diretta dell'Enteporto, è riuscito a mettere attorno a un tavolo i pescatori pugliesi a cui è stato illustrato il progetto che li dovrà vedere partecipi assieme all'arresto della marineria locale. È stato un grande traguardo. In passato ci provarono anche i nostri predecessori, forse le congiunture storiche, in un momento particolare, non si riuscì addirittura neanche a instaurare il dialogo. Per la prima volta siamo riusciti a sederci con gli amici della Puglia che da tanti anni hanno le loro imbarcazioni qui nel porto di Giulianova. È un passo importantissimo per far progredire il progetto del consorzio che auspichiamo possa costituirsi, possa nascere per la gestione del mercato ittico. Il progetto tiene conto di un piano di rilancio che consenta alla struttura mercatale giuliese di essere un vero punto di riferimento con il pesce azzurro che diventerà protagonista nelle trattazioni di compravendita. Il maggior numero di imbarcazioni che pescano pesce azzurro stazionano qui nel porto di Giulianova e ce ne sono altre che vogliono tornare in casa perché proprio peraltro sono giuliesi oggi a San Benetto del Tronto. Se così fosse sarebbe la più grande realtà per il pesce azzurro d'Italia sicuramente. L'assessore Giorgini guarda anche all'aspetto logistico della banchina del porto di Giulianova che dovrà tornare ad ospitare eventi di assoluto rilievo con iniziative che valorizzeranno il prodotto enogastronomico del territorio. Si attende solo di superare la pandemia? Lo scenario è spettacolare, c'è una quinta naturale bellissima. È ovvio che è un territorio sottoposto in gran parte aria militare ed è sottoposto al controllo della Capitaneria di Porto delle norme che vanno al di là di quelle dell'uso delle piazze pubbliche della città. In passato personalmente ci sono riuscito con un grande evento per Pediatria per l'emergenza con il dottor Calafiore e insieme all'amico Valerio Di Mattia di Alba Adriatica due anni fa portammo la manifestazione prima secca. Quindi abbiamo la testimonianza che poi quando tutti ci concertiamo si riescono a sviluppare degli eventi o di carattere benefico o di carattere enogastronomico e anche culturale importanti. Quindi auspichiamo che si possa continuare anche in questo senso su questa direzione. E ieri il Teramo invece in Serie C ha perso in casa 3-1 contro il Potenza ad analizzare il match Massimo Paci l'allenatore bianco-rosso che dice non facciamo drammi e predica calma. Questo Teramo sia un Teramo dell'ultima parte diverso non generalizzerà il periodo da questa partita. Oggi potevamo far di più, punto. Ci metto un punto perché è inutile trovare le giustificazioni della difesa che avevamo una difesa totalmente diversa è inutile trovare le giustificazioni dei ragazzi giovani in campo potevamo far di più. No, il Teramo non è in crisi. Il Teramo oggi ha perso e ha perso anche meritatamente. Abbiamo incontrato un avversario secondo me valido, forte e noi non siamo riusciti a tenerli in testa. Potevamo far di più. Avevamo, ripeto, non mi va, non sono uno che trova giustificazioni perché nonostante tanti giovani in campo, forse cinque dall'inizio e nonostante una difesa totalmente nuova perché oggi si aveva la percezione che in qualsiasi occasione ci potevano far gol ma penso che sia normale con una difesa di tre giocatori diversi su quattro adesso bisogna rimanere calmi. È un momento difficile, per me come allenatore è il primo momento difficile che vivo nella mia carriera e quindi credo che bisogna mantenere la calma poi, come hai detto tu, abbiamo avuto un infortunio, quello di Birligea che purtroppo ha cambiato un po' i piani abbiamo avuto delle squalifiche oggi importanti e per questo dico che bisogna mantenere la calma non bisogna generalizzare per una partita sbagliata e capita, può capitare anche alle grandi squadre e quindi bisogna rimanere calma e col lavoro venire fuori e aggiustare le cose. Non ci sono ulteriori aggiornamenti grazie per averci seguito per questa edizione è tutto buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV Grazie per aver guardato il video